buongiorno a tutti e bentornati al nostro caffinio uno spazio di confronto di dibattito per una costruzione condivisa della conoscenza io sono samuele e assieme a me oggi ci sono eugenio buongiorno a tutti e il professor gian matteo corrias buongiorno ragazzi buongiorno a tutti allora oggi parleremo di giovanni boccaccio la terza corona della letteratura italiana del trecento massimo novelieri italiano del medioevo nonché uno degli autori che maggiormente hanno traghettato la cultura italiana verso quella che fu la novità della rivoluzione umanistica ricordiamo soprattutto la figura e l'opera di francesco francesco petrarca caro amico e maestro di boccaccio che abbiamo già avuto occasione di trattare in un precedente video allora vediamo anzitutto una breve presentazione biografica di giovanni boccaccio giovanni boccaccio nacque a firenze nel 1313 figlio naturale ma subito legittimato del facoltoso uomo d'affari boccaccino di chelino allevato nella casa paterna nel 1325 fu affidato ad un grande mercante fiorentino per essere istruito nell'arte del commercio e seguire così le orme del padre nel 1327 trasferitosi a napoli col padre agente di cambio della famiglia dei bardi boccaccio cominciò anche gli studi di diritto canonico fra i suoi maestri napoletani furono forse cino da pistoia in qualità di giurista non di poeta e il teologo agostiniano di unigi di borgo sansepolcro la giovinezza napoletana del boccaccio è segnata soprattutto dalla partecipazione alla vita della corte angioina alla quale lui aveva accesso grazie al padre divenuto consigliere e ciambellano del re e aristocratico fu anche il suo più tenace amore giovanile quello per la donna celata nelle sue opere sotto il nome di fiammetta incontrata da lui un sabato santo nella chiesa di san lorenzo in questi anni boccaccio scrisse le sue prime composizioni latine e le sue opere la caccia di diana il filostrato il filocolo e il teseida nell'inverno tra il 40 e il 41 il padre si dissociò dai bardi e richiamò giovanni a firenze forse insoddisfatto delle occasioni di lavoro che la città poteva offrirgli cercò una più dignitosa sistemazione altrove presso le corti del nord boccaccio trascorse alcuni anni a ravenna poi a forlì nel 1348 si trovava a firenze durante la grande peste qui vide morire il padre le improvvise responsabilità familiari e la delusione degli ultimi soggiorni cortigiani contribuirono a radicarlo più saldamente nel suo comune nella città la sua fama gli assicurò incarichi di un certo prestigio tra i vari viaggi nel 1350 si recò a ravenna per donare alla figlia di dante sua beatrice un obolo riparatore di dieci fiorini d'oro poi nel 1351 si recò a padova dal petrarca per offrirgli una cattedra a firenze petrarca rifiutò ma quell'incontro fu l'occasione per saldare un'amicizia destinata a influenzare il senso umanistico l'indirizzo culturale del boccaccio che in quegli anni scriveva il decameron boccaccio si inserì attivamente nel movimento di restauro dell'antichità classica scoprendo a monte cassino testi fino ad allora sconosciuti di varrone tacito marziale e apuleio le sue ultime opere sono prevalentemente in latino e tra queste nel 1361 scrisse la genealogia de orum gentilium un testo enciclopedico di mitologia classica e il de mulieribus claris una raccolta di biografie di donne illustri da eva alla regina giovanna di napoli tra le opere volgari di questo periodo ricordiamo il corbaccio un libello misogino testimone forse dell'insorgere di un mutato orizzonte culturale e morale dell'autore negli ultimi anni boccaccio trasformò la sua ammirazione per dante in un vero e proprio culto la prima redazione del trattatello in laude di dante è datata 1351 e il 23 ottobre del 1373 cominciò una lettura pubblica della commedia fu proprio boccaccio ad attribuirgli l'aggettivo divina con cui la conosciamo oggi trascorse gli ultimi mesi tra le sofferenze fisiche e il dolore per la perdita dell'amico petrarca morì il 21 dicembre 1375 nella sua casa a certaldo giovanni boccaccio è spesso presentato come una figura di letterato rivoluzionaria nella concezione della donne sia per la libertà con la quale egli presenta tratti della psicologia della personalità femminili che normalmente sono soggetti a una censura di tipo moralistica sia e soprattutto perché la condizione femminile condizione di subordinazione di impossibilità di autodeterminazione e di isolamento è oggetto nel Decameron di una puntuale denuncia sociale e culturale una denuncia che culmina nella dedica del Decameron a un pubblico di sole donne e nella esaltazione della maggior capacità femminile di introspezione di comprensione del fatto amoroso nella sua complessità sì direi che la prima osservazione che possiamo fare a proposito della caratterizzazione delle figure femminili nell'opera di boccaccio dico nell'opera perché non dobbiamo pensare come oggi cercheremo di spiegare soltanto al Decameron è questa le donne sono rappresentate da boccaccio essenzialmente all'insegna di una duplicità una duplicità che alla fine dei conti rivela la natura ancipite della donna per boccaccio ma direi che qui boccaccio si inserisce in una tradizione di duplicità nell'interpretazione della figura femminile che è caratteristica del medioevo e che ha probabilmente come suoi archetipi mitici le due figure fondamentali le due figure femminili fondamentali appunto nel cristianesimo di Eva madre dell'umanità ma anche la prima donna peccatrice e Maria la porta della salvezza e la dimora di ogni virtù da un lato infatti per boccaccio la donna è vittima di un sistema socioculturale che la marginalizza è anche vittima di una passione appunto la passione amorosa in cui la donna è presentata spesso come vittima dell'uomo per cui invoca l'altrui compassione è quello che per esempio accade in una opera forse meno nota del Decameron che è l'Elegia di Madonna Fiammetta dall'altro la donna è in boccaccio anche essa stessa in prima persona autrice di ingiustizie causa di sofferenza per l'uomo perché la donna è anche presentata da boccaccio ecco in alternativa quel primo modello di donna virtuosa e vittima presentata dicevo come cinica opportunista ingannatrice traditrice ecco questa duplicità è molto ben testimoniata nel Decameron dove appunto noi troviamo novelle che hanno come protagoniste delle donne che appartengono appunto alla prima categoria di donne virtuose o comunque di donne marginalizzate per ragioni sociali vorrei ricordare che boccaccio dedica alle donne l'intera opera l'intero Decameron le donne che appunto a causa delle condizioni sociali e socioculturali in cui erano costrette a vivere erano appunto abbandonate a una solitudine nella quale la sofferenza acquisiva delle dimensioni abnormi a causa soprattutto dell'impossibilità di vivere il sentimento amoroso e di potersi confidare di potersi svagare anche per questo boccaccio scrive il Decameron o dice di scriverlo e dedica appunto quest'opera alle donne dall'altra parte però il Decameron abbonda come è noto sono tra le figure femminili più felici della creatività boccacciana ecco sono figure ciniche astute senza scrupoli con un rapporto quanto meno discutibile con la moralità ci sono figure davvero celebri giustamente celebri come per esempio una su tutte la figura di Peronella un'altra opera di boccaccio nella quale la donna è avvolta da una ambiguità e da una duplicità di caratterizzazione davvero molto molto netta è un'opera probabilmente composta negli anni cinquanta da boccaccio un'opera che si inscrive nella fase tarda umanistica della produzione boccacciana successiva all'incontro decisivo con con Francesco Petrarca che appunto indirizzò il boccaccio verso un approccio completamente innovativo alla cultura e direi anche in presse come cercheremo di chiarire meglio dopo una svolta morale alla sua suo impianto proprio intellettuale ecco l'opera a cui mi riferisco è il Demulieri Busclaris cioè delle donne illustri sulle donne illustris un'opera dosso grafica appunto in cui ha delle figure di donne eroiche per virtù si alternano figure femminili del tutto negative e in cui poi però si aggiunge una terza categoria di donne figure femminili assolutamente ambigue di cui cioè risulta sostanzialmente indecidibile se siano figure positive o negative ecco a partire proprio dalla stessa Eva Eva è rappresentata nel Demulieri Busclaris di boccaccio come una figura di cui non è possibile capire se è una figura positiva o negativa perché fondamentalmente manca ogni insistenza sul sul ruolo di Eva come causa come radice del peccato per l'uomo e per l'umanità dopo di lei un'altra figura diciamo così indecidibile dal punto di vista morale è un'altra figura femminile nota nella della storia antica nota nel medioevo ne parla anche dante nel celebre quinto canto dell'inferno che è la figura di semiramide regina assira moglie di nino di cui dante dice che per torre il biasmo in cui era condotta libito felicito in sua lette cioè approvò delle leggi tali per cui fondamentalmente rendeva lecite delle pratiche sessuali altrimenti moralmente sconvenienti però c'è un'opera di boccaccio in cui l'orientamento ideologico diciamo così e morale dell'autore si definisce in una direzione inequivocabilmente misogina è anche questa un'opera tarda probabilmente siamo tra la fine degli anni 50 e anni sessanta è un'opera piuttosto misteriosa già nel titolo perché il titolo di quest'opera è corbaccio ecco in questa operetta di cui poi diremo diremo qualcosa boccaccio ripropone alcune situazioni e alcuni temi topici della letteratura misogina medievale e direi addirittura si ricollega ad alcune tematiche alcune alcune situazioni topiche tipiche di una certa letteratura patristica il corbaccio un'opera poco nota di boccaccio di che cosa si tratta qual è il significato del titolo e che interpretazione possiamo dare sì partiamo dal titolo e diciamo che il primo aspetto di problematicità è proprio legato alla comprensione di questo di questo titolo e di questo termine piuttosto curioso no allora diciamo che le proposte interpretative e di analisi etimologica sono state molteplici una di queste vuole il termine corbaccio derivante da basi medio latine o addirittura arabe e dovrebbe significare ecco anche qui le proposte sono molteplici o il canestro il canestro che la una delle metafore dell'organo genitore femminile oppure la frusta una frusta che serve a sferzare i costumi perché di questo poi alla fine lo vedremo si tratta nel caso del del corbaccio oppure ancora il gioco l'igno gioco che si usava appunto per per la ratura e per la conduzione dei buoi che è una delle metafore tradizionali della dell'unione coniugale in alternativa e qui bisogna dire anche la maggioranza degli interpreti si è orientato invece per il riconoscimento del pur evidente a mio avviso valore ornitologico del termine corbaccio da corbo corvo quindi sarebbe il corvaccio ecco è a proposito del corvo ci sarebbero tante osservazioni da fare per esempio nei bestiari medievali e in particolare in un bestiario che il bestiario amoroso di richard de furnival il corvo è rappresentato come l'animale che becca gli occhi dei cadaveri ecco allegoricamente questa attitudine naturale del corvo alluderebbe al sentimento al sentimento amoroso che acceca gli amanti oppure si può pensare al corvo come rappresentato nella favolistica classica per esempio in in esopo in fedro ecco il corvo che che veste le penne del pavone per vanità e che quindi simboleggia le lusinghe femminili il trucco i vestiti cioè tutti quegli allettamenti che le donne utilizzavano e utilizzano ancora per rendersi più belle più appetibili anche all'uomo ancora potrebbe si potrebbe pensare che corbaccio sia usato da boccaccio analogamente a come o video usa il nome dell'uccello ibis per intitolare una delle sue opere no quindi l'uccello del mito mito libis che può identificarsi con il libro stesso però ecco un'altra ipotesi interpretativa secondo me molto più interessante e anche molto più funzionale alla comprensione della natura degli scopi e della sostanza di questa di questa opera boccacciana ecco il corvo potrebbe essere ricollegato al racconto della genesi dove si ricorderà il corvo viene inviato da noè dopo il diluvio in avanscoperta diciamo così a per lustrare il territorio viene inviato solo quindi è costretto ad abbandonare la sua compagna ecco che cosa fa il corvo il corvo non torna quindi noè come ricorderete è costretto a inviare le colombe che invece tornano con il rametto d'ulivo insomma questa è una storia nota la cosa interessante è questa perché il corvo non fa ritorno all'arca non fa ritorno all'arca perché si sofferma a esplorare il territorio quindi il corvo dovrebbe essere interpretato in questa chiave come un emblema del desiderio di conoscenza della curiosità e vedremo che questo aspetto in particolare ha un significato molto profondo perché anticipo il motivo fondamentale della resistenza e della critica appunto boccacciana contro il rapporto dell'uomo con la donna rapporto d'amore dell'uomo con la donna sarebbe proprio legata al fatto che questo rapporto costituisca un impedimento nel raggiungimento della sapienza a cui appunto l'uomo deve aspirare d'accordo ora per capire meglio anche il possibile valore del titolo il significato del titolo e quindi per dare sostanza a questa a questo primo accenno di esegesi di questa operetta vi propongo una brevissima sintesi del contenuto dell'opera allora intanto diciamo che il protagonista del del corbaccio è un giovane un giovane che si chiama giovanni quindi chiarissima allusione autobiografica no questo giovane ama disperatamente una vedova ecco questo dettaglio è ugualmente importante vedremo poi perché la donna amata da protagonista del corbaccio giovanni è una vedova una vedova che però non ricambia il suo sentimento durante un topico sogno visione che giovanni a un certo punto oppresso dalla sofferenza a ecco appunto giovanni si trova in una cupa e minacciosa selva non sto a dirvi che il riferimento qui è evidentemente alla situazione iniziale del traviamento dantesco non è la selva oscura ecco dentro questa selva giovanni fa un incontro perché incontra non virgilio ma l'ombra il fantasma del defunto marito della vedova di cui giovanni si è innamorato ecco gradualmente il defunto marito svela come in una sorta di controiniziazione all'arte amatoria gli inganni le meschinità della donna giungendo a liberare l'innamorato dai lacci del sentimento amoroso e facendolo invece approdare il paesaggio rassicurante di una sorta di purgatorio luminoso e ricco di speranza allora con tutta evidenza si tratta di un'opera dal chiaro impianto didascalico direi persino parenetico cioè un'opera che vuole invitare l'uomo a misurare la vera profondità la vera estensione di questo sentimento che pure soprattutto in una certa fase della vita occupa un grande spazio emotivo sentimentale e affettivo in cui l'abbandono del sentimento amoroso è presentato a più riprese come un vero e proprio cammino verso la liberazione come la rimozione di un incantesimo che ottenebra l'intelletto e che impedisce l'accesso alla sapienza ora a parte la chiara impronta strutturale dantesca anche l'idea del del viaggio del viaggio conoscitivo abbiamo visto anche insieme che la commedia in fondo è questo io trovo particolarmente interessante il fatto che il corbaccio presenti anche questa caratterizzazione di impronta esoterica iniziatica per la precisione no tant'è che nella conclusione del libro giovanni ormai liberato attraverso questa educazione amorosa da ogni illusione si concede a un rituale di sapore gnostico esoterico un rituale che viene ufficiato diciamo così dall'anima del defunto leggo dal dal testo del corbaccio se io non erro dice lo spirito del defunto marito della vedova l'ora della tua deliberazione si avvicina e perciò dirizza gli occhi verso oriente e riguarda alla nuova luce che pare levarsi la quale se ciò fosse che io avviso qui non avrebbero luogo parole anzi sarebbe da dipartirsi quindi è una vera e propria iniziazione questa con un apparato simbolico che si definisce in maniera anche piuttosto chiara nella direzione appunto della ritualità esoterica e misterica il medioevo conosce una cospicua tradizione misogina che affonda le sue radici nella tradizione patristica puoi dirci qualcosa al riguardo sì è così e diciamo pure che gli argomenti utilizzati dal mistagogo si direbbe tecnicamente cioè da questo educatore da questo iniziatore provengono di fatto dalla tradizione patristica in particolare provengono dall'opera di due autori che sono san girolamo e tertulliano san girolamo che in un'opera che si intitola adversus jovinianum un'opera nota a boccaccio bisogna dirlo è citata da boccaccio in più luoghi per esempio nelle sue esposizioni sopra la divina commedia e anche nello stesso corbaccio ecco gironamo nell'adversus jovinianum mette in evidenza quelli che sono i come dire i limiti morali che caratterizzano la natura femminile quindi sono in qualche modo strutturali alla personalità stessa alla natura stessa delle donne quali sono questi questi limiti questi problemi la rarità della virtù muliebre la tendenza femminile all'iracondia la tendenza femminile alla lussuria la frivolezza e poi c'è il tema del matrimonio come schiavitù che impedisce la vita ascetica dell'uomo o addirittura la vita intellettuale il progresso nella vita intellettuale questo ultimo tema in particolare avrà un notevole sviluppo nel medioevo ricordo ad esempio nelle epistolari di abelardo ed eluisa una pagina in cui eluisa scoraggia l'amante abelardo dalla suo proponimento di portare avanti il suo rapporto con la donna perché non è possibile vivere una vita filosofica e condurre l'attività filosofica di studio di scrittura di approfondimento senza la tranquillità che è garantita dal fatto di non avere una famiglia laddove invece quando si crea una famiglia ecco dalle esigenze della donna alle soprattutto esigenze dei bambini soprattutto quando sono molto piccoli ecco il tempo del saggio il tempo dello studioso passa appunto tra queste attività tertulliano dedica invece una serie di opere qui ora vi farò una rapida carrellata a fustigare i vezzi femminili ad esempio il deculto femminario un'opera in cui tertulliano analizza l'attitudine della donna a prendersi cura una cura giudicata eccessiva del proprio corpo della propria bellezza fisica altre opere come il de exortazione castitatis o il de pudicizia sono dedicate da tertulliano ad esortare alla castità quindi a una vita di astinenza dai rapporti sessuali in altre opere ancora ecco tertulliano si indirizza alle vedove e qui recuperiamo un elemento che già avevo presentato e le vedove vengono da tertulliano caldamente invitate a non risposarsi e a vivere una vita di continenza per esempio questo avviene nel de monogamia cioè sulla monogamia e nel ad uxorem ora proprio questo riferimento alla condizione delle vedove sembra particolarmente interessante nel nostro contesto perché si ricorderà che giovanni il protagonista del corbaccio si innamora proprio di una vedova e cosa ha di particolare la vedova rispetto alle altre donne ecco diciamo pure che la condizione vedovile sia in tertulliano ma questo è poi un elemento che entra d'impeto anche nella considerazione che la moralistica medievale ebbe del tema ecco la condizione vedovile sembra rappresentare quella in cui la donna emancipatasi dal salutare controllo e dall'indispensabile azione direttiva e moderatrice del marito è più soggetta all'instabilità è più soggetta alla prepotenza della dimensione pulsionale e delle varie inclinazioni negative che caratterizzano la natura femminile cioè la donna è costitutivamente incapace o era ritenuta costitutivamente incapace di auto regolarsi e di autodeterminarsi quindi il rapporto con l'uomo per la donna era valutato come qualcosa di indispensabile per evitare di scivolare in una perdita totale di autocontrollo essenzialmente ecco perché questa cura di tertulliano questa preoccupazione così insistente di tertulliano per l'educazione delle vedove alla continenza alla castità e alla custodia appunto della virtù boccaccio non propone questa posizione misogina queste riflessioni sulla donna solamente nel corbaccio quindi possiamo individuare qualche altra corrispondenza tra le sue opere sì è vero diciamo che c'è almeno un correlativo molto interessante di questa questa situazione di questo inquadramento della della questione amorosa soprattutto in una novella che presenta delle analogie piuttosto stringenti con la situazione con il personaggio con il rapporto amoroso che vengono descritti nel nel corbaccio e col modo con cui vengono tratteggiati anche tutti questi elementi si tratta della settima novella dell'ottava giornata che ha come protagonista guarda caso un giovane giovane rinieri che si innamora proprio di una vedova rinieri un giovane studente si innamorò di una donna di nome elena che rimasta vedova fece finta di ricambiare il suo sentimento una sera elena per burlarsi del ragazzo lo costrinse ad attendere fuori casa sua per tutta la notte il giovane per vendicarsi organizzò una beffa ai danni della vedova dicendole di essere un esperto di negromanzia e assicurandole che se lei avesse voluto egli avrebbe potuto fare in modo di farle rivedere il suo vero amante la donna si fidò e andò al luogo prestabilito e per svolgere perfettamente il rituale si spogliò e salì su una torretta ad aspettare l'amante appena la vedova salì rinieri tolse la scala da sotto la torre trascose tutta la notte ma l'amante della donna non comparve alla fine elena si accorse di essere stata ingannata e fu costretta a rimanere nuda e sotto i raggi coscenti del sole sulla torretta fino a dopo pranzo quando due suoi domestici la trovarono e la aiutarono a scendere tornati in città rinieri si sentì soddisfatto della sua vendetta ecco in questa novella appare chiarissimo come il giovane rinieri senza l'ausilio di un mistagogo senza una guida a differenza di quanto accade invece a giovanni nel corbaccio riesce a come dire evolvere nel senso della maturazione parte cioè da una considerazione della propria esperienza del proprio fallimento e a partire da questo fallimento sviluppa appunto una posizione più matura analogamente a quanto accade si ricorderà personaggi come Andreuccio da Perugia che imparano dai propri dai propri errori alla fine del racconto rinieri approda a una piena emancipazione da quello tenebramento intellettivo causato proprio dal sentimento amoroso e riesce anche a prendersi come abbiamo visto la sua bella rivincita contro la donna ecco qui secondo me l'elemento interessante da evidenziare è che rinieri non è un giovane qualunque ma è uno scolare dice dice boccaccio cioè uno studente universitario è un giovane intellettuale perché questo elemento è così interessante perché ci consente appunto di ricollegare questa figura emblematica al discorso che stavamo facendo prima cioè fondamentalmente la donna e il sentimento amoroso e le lusinghe del sentimento amoroso costituiscono un radicale impedimento nel progresso verso la sapienza nel percorso che conduce alla conoscenza d'accordo quindi sono dimensioni quella della conoscenza dello studio e della sapienza e quella del sentimento amoroso che vengono valutate come inconciliabili come antitetiche e anzi antagonistiche l'una rispetto rispetto all'altra ovviamente in una gerarchia di valori per cui al vertice di questa gerarchia è sicuramente l'approdo alla sapienza la donna finisce quindi per costituire un impedimento e conseguimento della saggezza da parte dell'uomo e questo è il principale problema anche dei rapporti poniugali ma perché non vale il contrario cioè perché il rapporto amoroso non costituisce un problema per la donna per il raggiungimento della saggezza sì capisco lo spirito di questa domanda presuppone ecco lo dico subito un una prospettiva che è tutta nostra e che nel medioevo nessuno però avrebbe condiviso ci arriviamo ecco partiamo dicendo questo il tema del rapporto con la donna inteso come impedimento nell'arduo percorso del saggio verso la conoscenza è formalizzato da boccaccio in più luoghi ad esempio voglio citare un passaggio delle esposizioni sopra la commedia di dante un commento a inferno 16 dove boccaccio scrive avvenna che egli egli e san girolamo autore del adversus io vignanum che citavo prima a se medesimo rispondendo dicesse dove ella sia bella ben consumata e nata ad onesti parenti e se esso fosse sano e ricco il savio alcuna volta poterla prendere incontanente aggiunse girolamo che queste cose rade volte intervengono tutte nelle nozze e però perciò il savio non dover prendere moglie perciò che essa innanzi alle altre cose impedisce lo studio della filosofia ne è alcun che possa ai libri e alla moglie servire quindi qui è proprio esplicito no nella nello stabilire un rapporto di esclusione reciproca o la filosofia o la moglie d'accordo o il rapporto sentimentale o coniugale meglio in questo caso oppure lo studio della filosofia e la conoscenza interessante è anche nel trattatello in laude di dante un'altra opera tarda di boccaccio l'exemplum che boccaccio stesso presenta appunto per cui peraltro non ci sono riscontri documentali ma sta di fatto che boccaccio racconta che dopo che gli fu combinato l'esilio dante decise di non volersi ricongiungere con la moglie gemma donati e questo boccaccio lo spiega con il fatto che appunto dante avrebbe deciso a partire dal 1302 di consacrarsi interamente al theoreticos bios cioè alla vita per la filosofia d'accordo quindi fondamentalmente la vita coniugale la vita con una donna e la presenza stessa di una donna costituisce questo è evidentissimo per boccaccio un impedimento al raggiungimento di quella condizione di sapienza alla quale si arriva attraverso appunto lo studio e la conoscenza voglio dirvi che da questa impostazione del problema si sarebbe poi nel 400 sviluppato un filone piuttosto cospicuo della trattatistica morale umanistica incentrata intorno al tema in latino an uxor sit ducenda cioè se ci si debba sposare oppure no si discuteva no si discuteva presentando argomenti a favore o per la maggior parte dei casi contro la vita coniugale e vorrei anche evidenziare proprio per chiarire l'importanza che la cultura antica tributava alla questione del rapporto con del saggio con le donne come nella tradizione aneddotica e anche iconografica medievale anzi forse è ancora più interessante osservare proprio la tradizione iconografica abbondassero esempi di sapienti che da un lato erano riusciti ad arrivare alle vette somme della sapienza e nonostante questo non erano riusciti a dominare la propria moglie si pensi ad esempio che secondo di oggi nell'aerzio qui abbiamo quindi una testimonianza antica socrate da vecchio avrebbe deciso di sposare la bisbetica santippe solo per dare una dimostrazione ai suoi discepoli e suoi conoscenti di come fosse in grado di trattare con gli esseri umani c'è una donna intrattabile lui ha voluto in questo modo dimostrare di essere in grado di riuscirci e nella tradizione iconografica medievale soprattutto nelle illustrazioni e nelle miniature che ornano i codici i codici medievali un tema piuttosto ricorrente è quello di grandi saggi dell'antichità come ad esempio salomone aristotele sono i due massimi sapienti secondo il sistema valoriale medievale ecco salomone e aristotele che però vengono cavalcati dalle proprie mogli questo a dimostrare in qualche modo che per quanto si possa arrivare in alto nella scala della sapienza ecco c'è comunque qualcuno che il saggio non riesce a dominare e questo qualcuno è la propria moglie diciamo che per boccaccio queste tematiche chiaramente misogine sono frequentate direi con un interesse prevalente per l'aspetto museologico il problema cioè se sia conveniente o meno per un uomo relazionarsi in maniera stabile soprattutto con una donna si parla in genere del rapporto coniugale poi c'è tutto un filone moralistico invece che parla proprio della degli aspetti morali legati al peccato di lussuria ma questa è un'altra cosa ancora no ecco il problema del rapporto coniugale fondamentalmente quindi il rapporto stabile con la donna va inquadrato nell'ottica del classicismo biografico che viene inaugurato da petrarca e che poi diventerà uno dei tratti caratteristici della cultura umanistica cioè il saggio l'uomo di cultura l'uomo di lettere tende a realizzare nella propria esistenza un modello sapienziale che poi il modello sapienziale improntato ai valori del mos maior romano quindi la gravità la pietà ma anche della morale stoica con i suoi valori di autarchia di autosufficienza del saggio quindi mal si coniuga con questa immagine di realizzazione umana all'insegna del modello sapienziale una relazione vincolante come quella con una donna con tutto poi il sottofondo di valutazione morale e psicologica soprattutto che era caratteristico all'epoca no della figura femminile ecco al netto di tutto questo io direi che l'errore che non dobbiamo commettere è quello di valutare queste questioni sulla base delle nostre coordinate morali e valoriali un errore che non si dovrebbe compiere ma che purtroppo l'abbiamo osservato anche noi diverse volte si commette sempre più spesso quando si ci si accinge a valutare delle questioni storiche e culturali cioè si tratta semplicemente lo dico in maniera più semplice di comprendere che alla base appunto di questa lunga profonda radicata tradizione misogina che ha due aspetti caratteristici fondamentalmente cioè una valutazione della donna come essere non autosufficiente e non capace di autodeterminarsi da un punto di vista morale ma anche da un punto di vista psicologico e poi dall'altra parte c'è appunto il problema che abbiamo già messo bene in evidenza della difficoltà e del vero e proprio impedimento che in un modello sapienziale per l'uomo votato alla saggezza rappresenta un rapporto come quello coniugale o in generale come un rapporto stabile con una donna diciamo pure per per chiudere che questa è una di quelle questioni che davvero correremo il rischio probabilmente di non poter più affrontare serenamente e questo peretta del boccaccio e tante altre opere di autori più o meno antichi corrono davvero il rischio in un regime culturale come quello che si sta imponendo di essere in qualche modo censurate ecco prima che questo avvenga affrettiamoci ad osservare questi documenti questi documenti del passato questi documenti della nostra storia della storia della nostra cultura e cercando appunto di comprenderli per quello che sono stati ecco in generale direi che bisogna sempre evitare di valutare il passato sulla base delle nostre coordinate valoriali evitare cioè di fare del passato una galleria di esempi positivi o negativi il che sarebbe già qualcosa perché l'alternativa che ripeto sembra la linea che invece si sta affermando è quella di voler fare del passato una galleria di esempi solo positivi eliminando tutto ciò che non ci piace non ci convince e forse non ci serve grazie a tutti